Ben ritrovati amici di Auto Occasioni, oggi sono ospite della concessionaria Autostandard in Corso Vercelli 429 a Torino e con me ovviamente Antonino Tamè. Ciao Antonino. Buongiorno anche a te, buongiorno agli amici che ci guardano da casa e ben ritrovati in casa Autostandard. Naturalmente lo sapete già, quando si parla di Autostandard parliamo di Evo Dier. E proprio a tal proposito Antonino, Dier so che nell'ultimo periodo veramente ha fatto grandi numeri, ha fatto parlare di sé. Sì Elisa hai proprio ragioni e oggi infatti vogliamo aprire la puntata parlando proprio di questo. Enrico se gentilmente mi fai un primo piano di questo articolo di giornale che è uno dei tanti articoli di giornale che sono usciti nel mese di maggio, leggiamola assieme. Dier vola sul mercato auto, quadrimestre dal record con un più 257%. Solo i numeri e credo da soli parlano e vi fanno rendere conto del enorme risultato e obiettivo che assieme a voi abbiamo raggiunto. Ormai Antonino questo appartiene al passato quindi parliamo di futuro, parliamo ovviamente del mese di giugno, campagna rotamazione. Si conferma la campagna rotamazione pari a 1.500 euro su tutta la linea Evo Dier, si conferma la duttilità e la versatilità sui piani finanziari perché da noi il piano finanziario non è obbligatorio ma è una proiezione di spesa fatta ad hoc e su misura in riferimento alle esigenze vostre e quindi dei nostri clienti. Nello specifico il mese di giugno si arricchisce una campagna rotamazione sulla 5.0. Possiamo rotamare anche un'autovettura che non abbia necessariamente 10 anni e che non sia necessariamente intestata all'acquirente dell'autovettura e ciliegina sulla torta. La 5.0 con targhe entro il 30 giugno la portate a casa con lo stesso identico prezzo di un'autovettura con campagna rotamazione anche se non avete un'auto da rotamare. E allora Antonino già l'altro mese ci hai un po' sorpreso con appunto calcoli e numeri tra le differenze fra auto vecchia, benzina ed elettrica, questo mese invece parliamo di GPL. Sì Elisa hai ragione, quel calcolo è un calcolo che abbiamo fatto da consumatori ed è la stessa identica cosa che vorremmo fare questo mese, anziché farlo sull'autovettura elettrica questo mese invece lo proiettiamo su la gestione di un'autovettura vecchia a benzina e diesel rispetto a un'autovettura DR con alimentazione GPL. E abbiamo più o meno cavalcato lo stesso sistema, cioè abbiamo messo su carta i costi fissi che noi abbiamo nella gestione di un'autovettura vecchia rispetto a un'autovettura nuova. Un'autovettura di media cilindrata quindi con una percorrenza più o meno intorno ai 15.000 km all'anno, noi solo di carburante spenderemo intorno alle 2.300 euro. Il bollo su questa autovettura ci costerà in linea di massima nell'ordine delle 250 euro, la manutenzione ci costerà intorno alle 400 euro ma sapete benissimo e meglio di me che la manutenzione di un'autovettura vecchia ha degli imprevisti perché una macchina usurata con chilometri la manutenzione è molto più alta. Specialmente se è in assenza di garanzia e qui non possiamo scrivere le cifre ma ve li facciamo immaginare a voi, queste cifre diventano a sorpresa. Adesso passiamo alle differenze comprando un ADR con alimentazione GPL dei costi che noi invece sosterremo. Solo di carburante risparmieremo il 65% quindi passiamo da un costo fisso di 2.300 euro all'anno a 800 euro per percorrere più o meno gli stessi identici chilometri. Un'auto con alimentazione GPL è esente bollo quindi azzeriamo il costo del bollo, su un'autovettura nuova di cui non abbiamo nessuna sorpresa in termini di manutenzione, basta solo un tagliando per metterci al riparo di eventuali sorprese, abbiamo un costo complessivo pari a 1.050. E' semplice fare un'operazione algebrica 2.950 il costo dell'autovettura vecchia, 1.050 il costo dell'autovettura con alimentazione GPL nuova, abbiamo risparmiato un totale di 1.900 euro. che divisi per 12 mensilità abbiamo ottenuto un risparmio mensile pari a 158 euro che è la somma necessaria che vi serve per potervi pagare una rata mensile e comprare un'autovettura totalmente green che vi permette di poter circolare sempre, andare negli centri storici e utilizzare le zone ZDL. Insomma avete capito, grazie ai calcoli di Antonino, quanto risparmio ci sia venendo qui da Auto Standard quindi io davvero ti ringrazio Antonino. Ringrazio te Elisa, Enrico mi fa già segno che il tempo è finito, approfittiamo per invitarvi a venirci a visitare in Corso Vercelli 429, osservare e guardare tutta la gamma Evo DR, qualità medio alta e al prezzo competitivo che in casa Auto Standard assieme a DR vi riserva. Insomma da qui è tutto, io vi ringrazio e alla prossima puntata.